Quando siamo in grado è un po' come il quieto prima del storm. Non c'è il suono, perché le bicchette è stoppita, no? E dopo che tutto inizia. E quello che senti durante la rata dipende molto su se sei forte, se sei veloce o non. A volte hai una buona rata, quindi hai solo emozioni positive, perché sei veloce e cercate di trasferire la persona in fronte. Alcune volte soffrivi più, quindi devi sfruttare un po' più. Non c'è nessun po' più. Io sempre penso che la mia bicchetta ha un sole, non solo un po' di stile. E il sole della mia bicchetta è la stile di 20 anni che passano da una bicchetta per l'altra. Quando ando sulla bicchetta, la mia bicchetta, mi sento come a casa, no? E questo è importante per cercare di trovare il contatto con la bicchetta. Ciao! 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 Grazie a tutti.